Siamo oramai ad agosto inoltrato, questo vuol dire che manca sempre meno all'apertura delle danze che dovrebbe avvenire tra il 12 e il 13 settembre, momento in cui Apple dovrebbe aggiornare il proprio catalogo dei prodotti con degli iPhone che a quanto pare saranno interessanti, ma che poi dovrebbe essere anche l'inizio di quello che potrebbe essere un autunno molto interessante con il rilascio ufficiale anche di iOS 17 che è il prodotto Apple che aspetto di più perché sapete quanto mi sia trovato male con iOS 16 e lo ribadisco anche a un passano in una di queste puntate estive che dovrebbe essere un po' più leggere, ma visto che iOS 16 va proprio in disaccordo con il caldo io mi sto sempre trovando peggio, però non voglio fare come il mio amico Carmine che in realtà ha messo la beta di iOS 17 qualche giorno fa e che me ne sta parlando fin troppo bene e quindi io sto riponendo troppe speranze in Apple e magari poi nelle prossime settimane mi metterò e mi installerò la beta anche sui miei dispositivi, visto che tra l'altro dopo la quinta beta per gli sviluppatori rilasciata nella giornata di ieri dovremmo assistere ora ovviamente all'arrivo della terza beta pubblica e poi al rilascio settimanale di beta dopo beta per migliorare quelle che sono le performance per regalarci speriamo una nuova versione migliore, ma oggi non siamo qui per parlare di software, non siamo qui per parlare di hardware, oggi parliamo di un terzo tassello che a quanto pare sta diventando sempre più importante per Apple. Perché a quanto pare Apple sta iniziando a diventare sempre più la reginetta dei servizi e visto che stiamo assistendo al caldo che permea sempre più nelle nostre vene, nei nostri cervelli e nelle nostre vite, oggi facciamo una bella puntata dedicata ai servizi di streaming, ma non solo, perché stiamo assistendo sempre di più ad una moltiplicazione dei servizi che stanno arrivando sempre da più parti, perché una volta erano solo le compagnie tecnologiche a propinarci quelli che erano i propri contenuti e ovviamente mi sto riferendo alle varie Netflix, poi è arrivata Amazon con Prime, sicuramente Apple rilascia TV Plus e a quanto pare anche a quanto sto sentendo da un po' una svolta al mondo dei servizi di streaming, però adesso stiamo assistendo sempre più all'arrivo di piattaforme dei produttori, ad esempio Disney Plus ma anche Paramount Plus che secondo me sta iniziando a diventare più interessante rispetto alla stessa Netflix che a quanto pare non sta prendendo più troppe decisioni, secondo me strategicamente importanti e quindi secondo me stiamo assistendo almeno da un punto di vista decisionale ad un inizio di scollamento della realtà, poi i dati danno ragione a Netflix, quindi nonostante abbiamo le password che non possono più essere condivise in una famiglia allargata, diciamo così, quindi nonostante Netflix abbia cancellato il piano da credo 9 dollari 99 per avere da una parte il piano con pubblicità e dall'altra parte i piani costosi, più costosi, appunto togliendo un pochino quello che poteva essere un buon punto in cui introdursi nel mondo dello streaming di Netflix, i dati stanno dando ragione alla stessa piattaforma che a quanto pare sta prendendo abbonati, quindi da questo punto di vista sarà interessante vedere il proseguo di questo racconto che sta diventando sempre più una serie tv tra i mondi che riguardano le serie tv perché è un po' la Elon Musk dei servizi di streaming, pensiamo a quante volte Netflix ha annunciato lo stop della condivisione delle password, prima sì, poi no, poi facciamo gli esperimenti, poi diamo la possibilità di avere altri profili per 5 dollari al mese, ma se ti abboni tramite un partner questa cosa non la puoi fare e quindi secondo me è importante guardare quello che da un punto di vista decisionale che riguarderà queste grandi compagnie ma secondo me è importante poi vedere quello che è il mondo dei contenuti che ad esempio arrivano sulla stessa Netflix perché rispetto ad un tempo quando ogni mese arriva il post di nuove serie, di nuovi film che arrivano su Netflix io vedo post sempre più vuoti proprio fisicamente all'interno di un post su Instagram o su Twitter che adesso si dovrebbe chiamare X però noi nel cuore continuiamo ad utilizzare il vecchio nome diciamo che io vedo contenuti molto meno presenti in termini di parole su schermo diciamo così e quindi alla fine tutto questo poi diventa un po' una controtendenza perché quello che una volta era il servizio di streaming che ogni mese ti dava la possibilità di guardare sempre più contenuti con più qualità adesso noi stiamo tutti implorando l'arrivo di One Piece per essere finalmente il primo live action Netflix con un po' più di qualità e dobbiamo aspettare veramente poche settimane perché arriverà il 31 di agosto e io che non ho mai letto One Piece, non ho mai visto One Piece potrei magari introdurmi in questo mondo proprio con il live action di Netflix e non vedo l'ora di sentire quello che mio fratello avrà da dirmi perché lui in realtà è un appassionato di One Piece non l'ha letto però è in pari con l'anime per cui da questo punto di vista potrebbe magari essere un po' un nuovo inizio per Netflix che sicuramente sta iniziando a sentire il peso degli anni perché anche il secondo ciclo di serie sta iniziando ad esaurirsi perché ovviamente abbiamo assistito ad uno stop di quelle che erano le serie storiche tipo Orange is the New Black tipo ovviamente House of Cards e qui ovviamente devo spezzare per forza una lancia a favore del buon Kevin Spacey che a quanto pare era innocente e quindi per favore Netflix dacci la vera ultima stagione di House of Cards perché io mi rifiuto di pensare che il finale di serie sia quello proprio che è uscito e ricordiamo ancora una volta il 9 agosto del 2023 che ad oggi non è disponibile House of Cards in Italia su Netflix perché credo che lo abbia ancora Sky in catalogo per cui devo indagare perché sicuramente un rewatch delle prime stagioni di House of Cards secondo me è meritatissimo anche se in realtà devo finire prima Orange is the New Black e poi devo finire Brooklyn Nine-Nine però da questo punto di vista oggi dobbiamo parlare di un miliardo di servizi non solo in termini numerici ma parlando del primo miliardo che Apple ha fatto emergere carta, canta per quanto riguarda i ricavi dei servizi perché è vero ci sono tanti servizi, ne abbiamo citati pochissimi perché poi ovviamente c'è Max che arriverà nel nostro paese nel 2025 ovviamente abbiamo anche i player gratuiti tipo Mediaset Play, tipo Rai Play però Apple da questo punto di vista sta iniziando a diventare sempre più potente con i suoi servizi che io sto sentendo sempre più al di fuori dalla bolla tecnologica perché quando poco tempo fa io parlavo di Apple TV Plus parlavo di un servizio che avevamo solamente noi appassionati noi magari utilizzatori di Apple che per tanto tempo hanno visto i contenuti di Apple TV Plus ad esempio le prime stagioni di C, le prime stagioni di The Morning Show perché avevamo Apple TV Plus gratis per più di un anno perché abbiamo preso nel 2019 l'iPhone 11 e quindi per i nuovi dispositivi che attivavano appunto i nuovi utenti che attivavano il dispositivo proprio dal credo primo novembre 2019 se non erro non sono giuro bruttini per cui le date prendetele con le pinze però avevano un anno di Apple TV Plus gratis poi ovviamente l'anno è stato il 2020 quindi i tempi si sono allungati un pochino e poi nel mio caso ad esempio è subentrato Apple One per cui io ho sempre avuto Apple TV Plus che però all'inizio era un servizio che utilizzavamo solamente noi utenti Apple però a quanto pare questa cosa non è più così perché sto sentendo sempre più persone parlare di Apple TV Plus quando ad esempio al termine dei talk show DJ Taz sento i consigli che Tiziano chiede agli altri streamer e sento più spesso parlare di Apple TV Plus dico ok Apple da questo punto di vista ha vinto perché tante persone che utilizzano Android tante persone che non hanno mai avuto dispositivi Apple ad esempio Victor Ladd l'88 che quando aveva il suo podcast perché io seguo quello della Svet della sua compagna e avevo letto che non avendo dispositivi Apple non erano presenti i loro podcast su Apple Podcast e quindi poi io andavo a recuperare il feed da Spreaker e lo buttavo in Apple Podcast però bando alle ciance chiudiamo la parentesi sento tanto parlare di Apple TV Plus a Victor Ladd l'88 e come lui tanti streamer stanno facendo tanti contenuti sulle serie Apple TV Plus perché a quanto pare è sinonimo di qualità quello che secondo me oggi è il più grande traguardo di Apple è essere usciti dalla bolla tecnologica e questa cosa l'ho intuita anche quando sono andato a vedermi ovviamente Barbie e ho visto un trailer scritto un Apple Original Movie sullo schermo della San Energia dell'Arcadia di Melso che ovviamente qualche settimana e farà godere tante persone con Oppenheimer in 70 mm che è secondo me una delle cose che non vedo l'ora di fare perché Oppenheimer in 70 mm sarà il mio autoregalo di compleanno purtroppo uno di 23 ma qualche giorno dopo però quando io ho visto lo schermo della San Energia e ho detto è un Apple Original Movie ho detto ok forse qua Apple ha iniziato a fare il balzo in avanti e l'ho intuito anche in un altro mercato che secondo me è meno competitivo perché abbiamo gli stessi contenuti dappertutto ma che sta iniziando a diventare qualcosa di importante e qualcosa di influente soprattutto e sto parlando ovviamente del primo grande servizio di Apple che è Apple Music e che da un certo punto di vista mi ha fatto ricredere di come ad esempio questo servizio rispetto a TV Plus possa essere trainante da un altro punto di vista perché se Apple TV Plus resta secondo me il miglior servizio di Apple anche per quello che ci fa godere in termini di contenuti e di qualità il discorso legato ai contenuti che Apple tira fuori in termini di audio dove non ha le esclusive perché tutti i contenuti che oggi troviamo su Apple TV Plus li troviamo su Apple TV Plus e poi su YouTube ma perché sono scelte commerciali di Apple però quando io sento Italo Disco Day The Colors su Apple Music posso sentire Italo Disco Day The Colors su Spotify, su Deezer, su YouTube Music eccetera eccetera questa cosa però secondo me potrebbe cambiare dando la palla nelle mani di Apple perché la scorsa settimana ero lì stavo interessandomi alle nuove cuffie di Beats le Studio Pro perché voglio un paio di cuffie che possano in qualche modo giostrarsi nel mio gear con gli AirPods Pro non voglio ovviamente comprare ad oggi le AirPods Max perché sto aspettando la seconda generazione e perché Beats quindi Apple ha annunciato un nuovo paio di cuffie che a quanto pare sono migliori perché non hanno lo smart switch quindi la possibilità di cambiare dispositivo nell'ecosistema Apple però ad esempio hanno il cavo USB-C per ricaricare col cavo non puoi solo ricaricare ma puoi anche connettere le cuffie a qualsiasi dispositivo USB-C e utilizzare il cavo USB-C per avere l'audio lossless cosa che Apple ha incluso nell'abbonamento a 9,99€ adesso 10,99€ però ti danno anche il cavo in dotazione cosa che ad esempio nelle AirPods Max ti costa altri credo 50€ o se non sono 50 sono 30 ma comunque sono altri soldi quindi ieri sono andato in Apple Store per prenderle non le avevano perché a quanto pare non sono ancora arrivate negli store italiani però c'erano lì le AirPods Max spoiler non me ne sono comprate ma le ho provate e ho provato per la prima volta le AirPods Max con l'audio spaziale in Apple Music e mi sono reso conto del traino tecnologico che Apple potrebbe avere perché da una parte abbiamo totalmente la qualità estrema che ad esempio un paio di cuffie come le Beats Studio Pro con il cavo USB-C possono andare a ritagliarsi un mercato importante perché ovviamente le Beats Studio Pro per me erano anche poi un investimento perché arriverà l'iPhone 15 Pro con l'USB-C quindi ho già un paio di cuffie cablate da usare anche con il mio prossimo dispositivo e che mi danno la possibilità di sfruttare appieno il mio abbonamento ad Apple Music però io sono rimasto sbalordito dall'audio spaziale perché è vero lo posso fare anche con i miei Airpods Pro sia di prima che di seconda generazione però ad oggi il Dolby Atmos che ti dà un paio di cuffie come le Airpods Max io non l'avevo mai provato e questa cosa secondo me inizierà a diventare sempre più preminente nella scelta delle cuffie e non solo perché anche nella scelta dello stesso servizio Spotify oramai sta diventando una super app ci sono i podcast ha aumentato il prezzo quindi adesso credo che Spotify costi 12,99 euro contro i 10,99 di Apple Music perché ad oggi non ha ancora la qualità audio paragonabile a quella di Apple e magari se ce l'avrà avrà anche un costo superiore però stiamo assistendo secondo me ad un qualcosa di importante ad una scelta che sicuramente farà fare ad Apple delle altre scelte in questo ambito che potrebbe quindi fare aumentare quel miliardo in servizi prima di concludere questo secondo episodio estivo però una carrellata anche sugli altri servizi perché ovviamente quello che potrebbe essere anche poi spunto per un successivo podcast tra fino 2023 2024 è anche pensare a questi dispositivi quindi iPhone iPad e Mac con i servizi di Apple in prospettiva all'arrivo di Apple Vision Pro perché quello che ho assistito ascoltando un brano su Apple Music con le beats con le con le beats solo pro con le Airpods Max con i miei Airpods Pro appunto è quello di un servizio di streaming che ti garantisce la massima qualità con qualunque piattaforma è oramai risaputo che per far uscire bene un prodotto tu lo produci in studio e poi lo devi sentire anche con le casse del computer con un paio di auricolari tipo gli Airpods con un impianto tipo quello della macchina e quindi se superi tutti questi test il disco lo fai uscire ma io ho percepito un po' di differenza di qualità se lanciavo un brano con Spotify e con Apple Music poi magari perché non sono abbonato a Spotify per cui ho la qualità inferiore però la differenza di qualità si sente e si sente tanto con un paio anche di cuffie cablate quello che secondo me poi resterà anche come benchmark quando arrivando tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 tanti nuovi dispositivi tipo l'iPhone 15 Pro e i futuri iPad Pro con gli schermi OLED con un nuovo processo di tecnologia che dovrebbe passare da LTPO a LIPO e quindi anche lì più fedeltà nei colori mentre garantisce anche più consumo o meglio più risparmio energetico potrebbe essere poi il benchmark per capire come anche Apple TV Plus porta l'adattamento ad uno schermo di qualità inferiore e l'ho percepito se guardo un prodotto sull'iPhone con lo schermo OLED o sugli iPad Pro con schermo mini LED MacBook Pro sempre con schermo mini LED o magari la qualità estrema se però guardo un prodotto Apple su un pannello dove la qualità non è eccelsa tipo Skyglass tipo mio fratello ha un Samsung mi ricordo comunque con un schermo QLED che non ha quindi l'HDR Plus ma sapete che non ha Dolby Vision ma HDR 10 Plus quindi un altro standard i colori sono ben riprodotti cosa che ad esempio con Netflix non c'è perché non hanno supporto HDR 10 Plus che è la scelta top per Samsung perché ovviamente Netflix sceglie il Dolby Vision e quindi io ho percepito la differenza di qualità dei due prodotti quindi una Apple che ti garantisce il massimo dettaglio anche in termini di visione con tutto e quindi in prospettiva sarà interessante vedere come la stessa Apple poi adatterà i propri contenuti anche ai nuovi mezzi che ci permetteranno di vedere tutte le serie tutti i film tutti i documentari di Apple TV Plus che usciranno ovviamente già a partire appunto da metà settembre per poi arrivare al 2024 inoltrato con Apple Vision Pro che sicuramente sarà il top del top per vedere un contenuto che Apple produce appunto in chiusura di podcast quello che secondo me si può dire sui servizi di Apple e facendo un po' un discorso cumulativo per gli altri quindi per Apple Arcade per Apple Fit Plus per Apple News Plus che purtroppo non c'è ancora in Italia e per iCloud Drive stanno diventando sempre più un tassello fondamentale per le casse di Apple stanno iniziando ad avere un approccio 2.0 a quelli che sono i servizi che stanno uscendo dalla bolla perché appunto come dicevamo prima per alcuni versi Apple TV Plus e Apple Music sono quelli che in qualche modo sono più riconoscibili perché punto sono presenti anche nei telefoni sui televisori di altre persone che non appartengono alla bolla però è importante vedere come una Apple è in grado di darti molta più performance se leghi l'ecosistema e quindi ad esempio hai un Fitness Plus che ha sempre più contenuti qualità eccelsa per avere poi l'integrazione tra smartphone tablet e orologio oppure se un discorso di sincronizzazione di file offline e online come ad esempio fa iCloud Drive rispetto ad esempio a un Dropbox se c'è differenza tra i giochi storici tipo Temple Run Plus che eticamente sono più corretti in Apple Arcade perché dai 5 euro al mese ad Apple però non ti dà quei modi di farti spendere suddolamente attraverso gli in-app purchase quindi in conclusione i servizi di Apple stanno diventando sempre più importanti e secondo me saranno un altro mercato da tenere d'occhio proprio per queste chicche che magari nessuno di noi nota quotidianamente ma magari poi vedendo il quadro nell'insieme ci dà modo di apprezzare quelli che oramai stanno diventando sempre più pilastri per un'azienda che magari in futuro punterà ancora di più detto questo noi ci sentiamo tra una settimana con i consigli da vedere anche sui servizi Apple buona estate buon ferragosto e noi appunto ci sentiamo dopo ferragosto con la puntata sui consigli ciao